Il pesante bilancio di un anno di covid in Irpinia ha restituito 202 vittime ed oltre 9.000 contagiati. Saranno i bollettini delle prossime ore e soprattutto dei prossimi giorni a indicare se in Irpinia sarà confermata la tendenza di fine anno al calo consistente del contagio o purtroppo ci sarà da temere una ripresa. In Campania la situazione è attualmente sotto controllo seppure da alcuni giorni il tasso di positività va aumentando. Potrebbe trattarsi, si spera di no, dell'effetto gradino ovvero di una lieve risalita della curva dopo la discesa. Solo dopo l'epifania la regione potrebbe tornare in zona gialla sempre che l'indice di contagiosità resti ben al di sotto dell'uno e la pressione sugli ospedali non aumenti salvo naturalmente provvedimenti diversi ad opera del governatore De Luca. Nel bollettino di ieri 1734 positivi in Campania su oltre 20.000 persone sottoposte a tampone, tasso dell'8,4% molto al di sotto della media nazionale. I numeri incideranno naturalmente anche sulla ripresa o meno delle elezioni in presenza dal 7 gennaio. Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di poter scrutare nelle decisioni di governo, regione e a cascata dei sindaci. La sensazione è che si procederà per gradi, non ci sarà una riapertura totale e immediata. Sul fronte ai contagi da segnalare in alta erpinia una riduzione del numero di posti letto attivi in medicina all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Un calo fino a soli sei posti attuato nei giorni scorsi per alcuni casi di positività riscontrati tra pazienti trasferiti e personale. l'allerta è già rientrata.